Il tutor Beniamino Baleotti, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all'interno del programma condotto da Caterina Balivo su Rai 2, detto fatto, ha dato la ricetta di un primo piatto emiliano, i tortellini in brodo di cappone. Di seguito Ingredienti e procedimento Ingredienti per la sfoglia 300 g Farina da sfoglia 3 uova grandi Il ripieno dei tortellini 100 g Lonza di maiale 100 g Prosciutto crudo 100 g Mortadella 100 g Grana ben stagionato Sale fino Noce moscata per il brodo 800 g Carne da brodo Mezzo cappone 2 ali di pollo 1 osso di vitello 1 pezzo di lingua di bovino 2 coste di sedano 2 carote 3 cipolle 1 patata 1 pomodoro 1 foglia di alloro 2 foglie di salvia, sale grosso procedimento il brodo. In una pentola capiente, adagiamo la patata sul fondo. Uniamo tutta la carne, le verdure tagliate grossolanamente e il pomodoro inciso. Copriamo il tutto con l'acqua, quindi regoliamo di sale e aggiungiamo gli odori, l'alloro e la salvia. Cuociamo a fuoco dolce per almeno 8 ore, meglio se 12. Filtriamo il brodo in una pentola e lo portiamo a bollore. La pasta all'uovo. Sulla spianatoia, mettiamo la farina fontana, apriamo le uova al centro e con l'aiuto di una forchetta amalgamiamo gli ingredienti. Lavoriamo con le mani per 5-7 minuti, fino a ottenere un impasto liscio e sodo. Abbolgiamo il panetto nella pellicola e lo lasciamo riposare per 30 minuti. I tortellini. Tagliamo a tocchetti in lombo o lonza di maiale, il prosciutto e la mortadella. Maciniamo il tutto per 3 volte con il tritacarne. Condiamo il composto tritato con un pizzico di sale, abbondante noce moscata e il grana grattugiato quindi amalgamiamo il tutto. Stendiamo la sfoglia molto sottile. Con l'aiuto della rotella, tagliamo tanti quadrati di circa 3 cm di lato, quindi mettiamo al centro un po' di ripieno. Chiudiamo il quadrato della sfoglia a metà, facendo combaciare bene gli angoli, che devono essere ben sigillati. Facciamo ruotare la sfoglia attorno alla punta del dito. Indice. Facendo.